sognare si può buongiorno buongiorno a tutti quanti bentrovati con un nostro amico che ritorna a trovarci e sono molto felice di averti qui il dottor Ugo Viora eh di Amar Piemonte ci deve parlare di un po' di novità di tutte diciamo le novità che ci sono in programma per questo 2023 appena cominciato quindi ben trovato grazie per essere qui grazie a te di avermi di nuovo voluto qui ai tuoi microfoni grazie a tutti quelli che ci ascoltano sì è ricominciato l'anno ebbene sì purtroppo non siamo ancora fuori dal freddo ma prima o poi ci usciremo poi ci lamenteremo perché farà troppo caldo ma è un classico siamo fatti così e però l'attività dell'associazione non è mai finita certo chiaramente in questi mesi di chiamiamo la pausa abbiamo pensato di programmare le attività per il 2023 di mettere in cantiere un paio di cosette che tutto sommato stanno avendo stanno portandoci via un bel po' di impegno e speriamo che ci daranno un bel po' di soddisfazione anche sì dei buoni frutti no speriamo più che altro speriamo che continuino a essere utili come è stato l'anno scorso il progetto quattropassi che che ovviamente continua anche nel 2023 perché era previsto così e anzi se tutto va come deve andare probabilmente continuerà anche nel 24 e nel 25 per insomma bene 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 speriamo di riuscire a farcela nel frattempo attendiamo che le temperature diciamo concedano concedano diciamo di di almeno l'approccio esterno chiaramente c'è stato un momento il momento invernale in cui bisogna prendersi un attimo una pausa no come dicevamo quando ci siamo lasciati sì ma ti dirò noi noi eroi abbiamo continuato abbiamo ripreso a camminare il 16 di febbraio con i gruppi che si erano iscritti all'inizio dell'anno scorso che ormai hanno una loro autonomia e che veramente imbaccucatissimi hanno ricominciato percorrere i sentieri del parco noi l'attività per i nuovi iscritti comincerà sicuramente alla fine di marzo certo ricominceremo anche con le lezioni di prova per cercare di inquadrare anche i gruppi vedere di fare dei gruppi omogenei quindi si ripartirà con l'attività di cammino diciamo ad aprile ecco in realtà invece già è ricominciata l'attività congressuale abbiamo avuto un incontro il 18 in cui abbiamo presentato il frutto di un progetto che abbiamo portato avanti nel corso del 2022 sostanzialmente e che ha portato alla stesura di un librettino che si chiama malattie croniche malattie croniche consigli pratici per i cittadini che è proprio una sorta di vademecum per orientarci all'interno del servizio sanitario nazionale si parla che non è poco perché tutte le volte diventa problematico no magari orientarsi proprio capire dove cosa chi chiedere ma anche sapere quello che ciascuno dei vari attori del sistema può darci perché c'è specificato il ruolo nostro come cittadini quindi si parla anche di prevenzione si parla anche di attivare il fascicolo sanitario elettronico di tante cose che di cui abbiamo sentito parlare ma che poi in realtà non facciamo mai il ruolo del medico di famiglia ruolo come come fare per le invalidità dove andare a ritirare i presidi proprio veramente delle cose molto molto pratiche è un lavoro che è stato sviluppato in collaborazione con cittadinanza attiva per cui assolutamente c'è anche la componente sociale non soltanto di malati ma un pochettino di tutta la trasversalità della società e soprattutto con la regione piemonte con l'assessorato alla sanità che ci ha consentito di lavorare ci ha revisionato tutti i vari testi perché le informazioni che fornivamo fossero effettivamente corrette ed è venuto a parlarci di questo ruolo che ha avuto la regione di che cosa la regione pensa di farsene di questo libretto proprio un rappresentante il direttore della programmazione sanitaria dell'assessorato alla regione alla sanità nel dottor ripa mentre invece era venuto anche il dottor raviolo paolo raviolo del l'ordine dei medici per che tra l'altro ha detto una cosa che mi ha un pochettino stupito che leggendo il volumetto lui stesso ha imparato delle cose nuove che non è assolutamente interessante il che vuol dire che insomma è stato fatto lo scopo è stato raggiunto tra le altre cose è una particolarità questo volumetto sarà disponibile in formato cartaceo soltanto in tutti gli sportelli del tribunale del malato spieghiamo bene allora in ogni ospedale in ogni asl c'è uno sportello del tribunale del malato in cui si potrà consultare direttamente leggendolo e toccandolo con mano questo volumetto perché perché siccome è in continua evoluzione perché anche il sistema in continua evoluzione francamente non abbiamo pensato di investire soldi nella stampa di un numero adeguato di copie cioè bisognava pensare di farne almeno 5 6 mila copie certo con il rischio che tra due mesi entrando in vigore un pezzo del mitico decreto ministeriale 77 piuttosto che della ristrutturazione voluta dal dall'altrettanto mitico pnrr cambiano le cose per cui bisognava buttare via tutto allora abbiamo preferito farne una versione che è online sul sito di amar piemonte sul sito della di cittadinanza attiva lo trovate tranquillamente lo potete anche stampare scaricare perché è assolutamente scaricabile ma che ci consente di avere degli aggiornamenti costanti per cui chiaramente andando a lavorare online come c'è la modifica si modifica il capitolo o si aggiunge e quindi riusciamo ad integrare meglio il volume col cartaceo avremmo buttato via tutto speso un sacco di soldi e ammazzato anche un sacco di alberi che non fa mai più ma certo che è importante anche questa attenzione no alla fine ci permette di essere molto più aggiornati perché comunque voglio dire intervenire su un discorso online su un materiale a disposizione molto più veloce e quindi e quindi ci permette di avere informazioni molto più aggiornate se siete come come me che non riesce a leggere materialmente un pdf dal computer e preferisce stamparselo perché così lo scarabocchia lo sottolinea e quant'altro vi toccherà buttare via un po di tempo e farvi la stampa se invece siete più giovani o comunque più abituati a lavorare sul pdf sicuramente vi sarà più comodo lavorare così però insomma questa è quella è la scelta che abbiamo fatto mentre invece il venerdì scorso abbiamo presentato un altro progetto che è una grossa sfida tra l'altro voglio dire è stata è stata una presentazione di grandissimo successo presso il circolo dei lettori sì abbiamo conferenza stampa conferenza stampa che ci ha già gratificato nella nella sua realizzazione perché abbiamo avuto il supporto della comunicazione del consiglio regionale del piemonte che è una cosa molto vuol dire che il progetto è bello sostanzialmente perché se no non ce l'avrebbero appoggiato abbiamo avuto la presenza di un rappresentante del consiglio del garante del diritto dell'infanzia dell'avvocato serra e del garante dei diritti degli animali perché è un progetto che prevede l'intervento assistito degli animali quindi la vecchia pet therapy e di nuovo come quattropassi è un progetto che è rivolto a tutta la cronicità o meglio a tutte le persone e poi vi dirò quali persone vi tengo un attimino in sospeso che hanno una malattia o un disagio le persone interessate ecco perché la della presenza del garante dei diritti dell'infanzia sono i bambini dei bambini e gli adolescenti quindi dai 3 ai 17 anni con malattie croniche o con ricoveri ospedalieri molto lunghi o con disagio di inserimento psicosociale di uno per tutti può essere l'autismo come però non trascurriamo assolutamente le malattie reumatiche non trascurriamo nessun tipo di malattia progetto molto impegnativo che si chiama meglio se possiamo spostarlo dal tavolo perché si sente nel microfono che si chiama meglio giocare nel parco questo ecco già il titolo ricordo ne avevamo accennato alla fine delle attività del 2022 ed era aveva già tirato l'attenzione proprio per così per l'argomento no tornare un pochino alla natura alla come dire al al contatto no sì tornare alla natura tornare al contatto sicuramente meglio giocare di qualunque cosa sì meglio che starsi in un angolo a mugugnare o a pensare alle proprie disgrazie giocare in un parco poi è l'ideale ancora di più certo siamo veramente in mezzo alla natura e poi giocare in un parco con gli animali ancora di più ecco che esatto è veramente il massimo ed è un progetto che si si propone sostanzialmente di aiutare tutti quei bambini che hanno dei problemi di socializzazione ma perché sono stati a lungo ricoverati perché sono malati perché hanno tanti piccoli problemi a riconciliarsi con il mondo sì è una bella sfida no nel senso che a riconciliarsi con il mondo è già impegnativo sì però sai anche se tu prendi una persona che che non c'è più abituata o che ha perso la propria autostima gli affidi la cura di un animale anche soltanto per un'ora al giorno e questa persona vede la risposta dell'animale vede il rapporto suo con l'animale che migliora di volta in volta chiaramente questa autostima la ritrova assolutamente e si apre di nuovo di più e poi il rapporto con gli animali l'abbiamo visto aiuta veramente a risolvere tanti problemi pratici che possono sicuramente favorire anche un buon esito delle terapie farmacologiche che stiamo facendo non fosse altro che perché ci aiutano anche a farle queste terapie perché giocando si fanno certo è tutto più facile assolutamente assolutamente sì senti colgo l'occasione visto che li hai nominati per salutare diciamo coloro che insieme con amar seguono il progetto no quindi abbiamo nominato il dottor paolo guiso a proposito di pet therapy e di garante del per quel che riguarda le terapie con con animali e salutiamo walk in progress quindi la nostra daniela cogato che segue tutto l'aspetto come dire sulla correttezza della postura e della camminata nel momento in cui ci si così ci si trova a camminare per non stancarci più di quanto in realtà sia necessario no perché è importante camminare nella maniera corretta come più volte ci avete detto e naturalmente di coloro che hanno seguito e che seguiranno il vostro progetto e salutiamo anche gli amici di casa zoe che ci daranno una mano perché questo progetto è sviluppato in collaborazione con diversi personaggi perché noi come associazione di malati non possiamo essere onniscenti certo noi abbiamo avuto l'idea speriamo di riuscire a portarla a termine con successo però chiaramente non siamo in grado di accogliere e gestire in maniera corretta i bambini per cui casa zoe si occuperà di questo lo fa normalmente non siamo in grado di insegnare a camminare ed ecco che daniela e walk in progress sicuramente ci danno una grossa mano non siamo in grado di gestire gli animali ed ecco perché abbiamo tutta una serie di abbiamo circa una dozzina di binomi cioè conduttore più animale solitamente sono cani ma ci sono anche un paio di gatti due o tre gatti che ci daranno una mano nel fare questi interventi assistiti con gli animali nel gestire questi bambini bambini che ci saranno inviati e questo l'abbiamo precisato anche nella conferenza stampa dai pediatri di libera scelta dai pediatri ospedalieri che dovranno dirci qual è il problema del bambino e quali sono le cose che loro vorrebbero ottenere dal nostro intervento perché in questo modo gli esperti ci sono anche degli psicologi a coordinare il gruppo di persone che seguono ogni singolo bambino chiaramente programmeranno l'attività in maniera corretta e coerente e adeguata certo rispetto alle richieste alle necessità ecco chiaramente il vostro è un lavoro complesso volevo fare un saluto e ricordare le aree protette popiomintese che ci stanno comunque seguendo e che comunque collaborano con voi al progetto e che fortunatamente sembra che siano disposti a rinnovarci la convenzione a darci ulteriori spazi perché per portare avanti queste queste attività abbiamo bisogno sia di spazi all'aperto e quelli non ci sono problemi a trovarli ma anche degli spazi al chiuso per quanto c'è brutto tempo per cui abbiamo avuto la disponibilità di avere delle sale in più rispetto a quelle che già frequentiamo con il progetto quattro passi di salute nel parco e quindi dobbiamo ringraziare anche loro per questa disponibilità. Che altro dire in questa diciamo in questa progettualità che raccoglie comunque molte molti aspetti e molte come dire situazioni interessanti sia dal punto di vista pratico come abbiamo ricordato sia dal punto di vista diciamo dell'informazione a livello quindi congressuale così come era stato fatto negli scorsi anni c'è stato un momento di grande difficoltà ma è stato portato avanti ugualmente e parliamo del periodo in cui c'era il limite dovuto al covid che è superato quindi adesso si può fare di persona e continua proprio questo aspetto questo aspetto di informazione su una progettualità grossomodo mensile in cui voi affrontate sarà un po' meno fitto dell'anno scorso perché l'anno scorso avevamo chiuso con 18 incontri ma francamente non ce la facciamo a starci dietro in maniera corretta saranno una dozzina quest'anno gli incontri il primo appunto ci è già stato il secondo sarà a metà marzo il 18 di marzo che dire di mezzo c'è anche però saremo il 3 4 di 5 marzo saremo in pezzo a San Carlo tra l'altro vogliamo dirlo esatto perché vogliamo mica farci mancare just the woman e non si può non si può ma anche perché esatto è un incontro direi che ormai è diventato un simbolo anche è molto importante qui dobbiamo dire grazie anche al custo rino e all'azienda ospedaliera città della salute e della scienza perché ci accoglie tutti gli anni sotto la propria ala nell'organizzazione di questa manifestazione e saranno tre giorni in cui noi avremo un nostro banco un banchetto in piazza in cui ci saranno dei nostri volontari che se volete vi spiegheranno un pochettino di cose abbiamo avuto due slot, due quarti d'ora il venerdì e il sabato per presentare appunto il progetto meglio giocare nel parco dovrebbe essere sabato se non ricordo male per presentare va de me come librettino e questo dovrebbe essere il venerdì pomeriggio poi staremo lì vi daremo tutte le informazioni che volete se volete potete già dare anche delle preadesioni se vi siete interessati ad aderire al progetto uno dei due e cercheremo di onorare al meglio quello che è lo scopo finale di questa tre giorni con un gruppo che camminerà domenica mattina non abbiamo voluto essere noi il punto di distribuzione delle maglie perché non ce la facciamo a stare dietro anche a tutte queste incombenze burocratiche per cui preferiamo che ciascuno di voi si iscriva se vuole direttamente al CUS e poi venga se volete venire poi a camminare con noi siete i benvenuti il nostro gruppo c'è più siamo meglio è francamente sì che questo è anche un po' il vostro motto anche nei momenti più complicati siete sempre stati col sorriso a raccogliere tra l'altro possiamo visionare sia il sito di Amar Piemonte dove eventualmente riguardare le conferenze che ci sono state quindi voglio dire se ci sono degli argomenti di vostro interesse ma anche dove le pagine Facebook o Instagram dove poter visionare anche insomma le faccette soddisfatte delle persone che col bel tempo l'hanno fatto con più soddisfazione ma anche in momenti un pochino più duri insomma sono state insomma con il motto più si è meglio è insieme si può anche diciamo che oltretutto ha sortito anche un effetto pratico immediato perché siamo riusciti effettivamente a raccogliere e adesso stiamo aspettando che ce lo consegnino il defibrillatore per il parco perché infatti volevo ricordare anche questo aspetto perché voglio dire è stata lanciata questa sfida piuttosto ambiziosa quella appunto di riuscire a raccogliere i fondi per donare proprio al parco al parco delle valere un defibrillatore lo spieghiamo velocemente per chi magari avesse perso qualche qualche pezzetto delle innumerevoli vostre attività no? è una sfida che comunque tra l'altro adesso non voglio dire però comunque in breve tempo tutto sommato in un mese esatto in un mese è stata comunque superata devo dire siamo stati molto soddisfatti abbiamo avuto anche dei gruppi un grosso aiuto dal gruppo dei diabetici di Chivasso che si è unito a noi in questa iniziativa e devo dire assolutamente sono stati molto carini molto generosi anche loro comunque siamo riusciti effettivamente a raccogliere i fondi adesso abbiamo ordinato il defibrillatore vi diremo quando ci sarà la consegna ufficiale perché effettivamente sarà un momento un pochettino così particolare forse anche leggermente commuovete perché è anche un modo che abbiamo avuto per ringraziare il parco di tutto quello che fa per noi quindi no infatti è molto bello pensare a una crescita comune no? perché il parco è sicuramente una grandissima risorsa e collaborare questa vostra collaborazione permette anche di sfruttarlo al meglio cioè queste potenzialità che il parco ha in sé poterle diciamo così direzionare verso chi ne ha magari più bisogno anche se come dicevamo tante volte si ha l'idea sbagliata che chi soffre di una qualche patologia non debba muoversi non debba fare in realtà abbiamo scoperto che assolutamente non è così e quindi poter avere a disposizione uno spazio così ampio per poter invece giuste misure delle soluzioni ma poi io credo che sia molto importante è vero le associazioni di volontariato come diceva anche l'assessore Borello alla conferenza stampa non possono farsi carico di tutto perché effettivamente noi non ce la facciamo se non abbiamo gli aiuti anche finanziari da parte delle istituzioni dei privati di chiunque non riusciamo materialmente a fare le cose però non devono neanche essere delle realtà che prendono solo e non danno mai per cui l'idea di fornire un defibrillatore al parco è una cosa che effettivamente è utile a tutti è utile anche al parco perché un parco come quello delle Valere senza defibrillatore non aveva tanto senso no infatti è molto importante che ci sia tutto sommato per noi è stato un impegno sì dal punto di vista organizzativo ma francamente è stato veramente pesantino riuscire a raccogliere questi fondi però abbiamo ritenuto giusto farlo e non solo ma contribuire anche noi come associazione direttamente all'acquisto di un totto di pettorali per riuscire ad arrivare poi all'esito finale per cui credo che sia stata una cosa carina e che sarà bello poi consegnare materialmente questo aggeggio di cui poi chiaramente sarà il parco a occuparsi a diventare gestore a curare poi le le manutenzioni la manutenzione ma non solo ma anche l'addestramento delle persone che dovranno poi utilizzare certo perché poi ci dovrà essere qualcuno addetto che dovrà avere un corso di formazione per l'impiego di questo mezzo assolutamente sì allora il nostro tempo è praticamente volato però io ti ringrazio di essere stato qui con noi e spero che in futuro potremmo ancora così aggiornarci sul sul proseguo delle attività che sono come abbiamo visto innumerevoli allora velocemente salutiamo tutti coloro che fanno parte dei progetti e ti chiedo velocemente di fare un brevissimo riepilogo dei progetti che abbiamo già nominato e ricordare dove potervi seguire ok allora i progetti fondamentali sono quattro passi di salute nel parco che continua meglio giocare nel parco che comincerà alla fine di marzo prima di aprile perché adesso ci stiamo organizzando e stiamo raccogliendo fondi per cui se conoscete anche qualcuno che possa essere interessato metteteci in contatto dove potete seguirci ovviamente sul sito www.amarpiemonte.org sulla pagina facebook amarpiemonte 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 si poi c'è sia l'onlus che il profilo personale il profilo è senza onlus la pagina è con l'onlus li trovate in un modo o nell'altro li trovate anche su instagram ci trovate anche su instagram e poi alle valere perché noi il martedì pomeriggio solitamente se non siamo qui da Ivana siamo a fare segreteria lì al parco delle valere dalle due e mezza alle tre e mezza quattro meno un quarto e quindi ecco mi raccomando per qualsiasi informazione potete sicuramente andare a visionare il sito o i social addirittura c'è appunto come avevamo detto prima walk in progress piuttosto che amarpiemonte piuttosto che diciamo che facciamo noi da collettore unico meglio rivolgervi siccome l'abbiamo nominati dico meglio rivolgervi ad amar e che poi smista esattamente così almeno è più facile e non dovete fare il giro del mondo perché saranno poi loro a direzionarvi orientarvi nella sezione che più è consola una cosa che ho dimenticato di dire meglio giocare nel parco non si occupa soltanto dei bambini e degli adolescenti ma anche delle famiglie perché mentre ci lasciate i vostri bambini e adolescenti a partecipare al progetto voi potete andare a camminare diciamo che è un progetto a 360 gradi assolutamente sì perché abbiamo pensato ai genitori ma anche ai fratelli che mentre i loro fratelli fanno gli interventi assistiti con gli animali se vogliono si possono fermare se non vogliono vengono a camminare con noi a fare lungo il parco camminare va sempre bene correre loro che possono anche una meglio quindi non c'è nessun problema però abbiamo pensato anche a voi a questo punto ci salutiamo mi raccomando se sentite qualcuno che possa comunque aiutare i progetti metteteli in contatto con Amar perché voglio dire le potenzialità sono davvero tante e sarebbe interessante veramente poter creare delle opportunità noi vorremmo essere utili al maggior numero possibile di bambini e adolescenti ovviamente tutto è compatibile con le dotazioni economiche di cui disponiamo per cui più soldi riusciamo a impegnare nel progetto e più saranno i bambini seguiti e su questo ci salutiamo un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e ci ascolteranno anche a tutti coloro che ci seguiranno poi in replica su Radio Moncalieri www.radiomoncalieri.net un saluto a tutti grazie al dottor grazie a voi Ugo Viora a Damar Piemonte e a tutti coloro che insieme lavorano per raggiungere gli obiettivi grazie grazie a tutti alla prossima